Avrebbero causato un danno di 28 mila euro all'erario tramite affidamenti diretti senza procedure comparative, liquidazioni con abuso di risorse finanziarie destinate alla modernamento tecnologico e autopagamenti. La Guardia di Finanza di Popoli, nell'ambito dell'operazione Easy Game, ha denunciato per abuso d'ufficio cinque responsabili dei servizi tecnici e finanziari dei comuni di Picciano e Pesco Sanzonesco, che sono stati segnalati anche alla Procura regionale della Corte dei Conti. Avrebbero creato un giro di favoritismi culminato con l'assegnazione di 11 appalti per un valore complessivo di 2 milioni e mezzo di euro. Dalle indagini delle fiamme gialle sarebbero merse irregolarità negli appalti pubblici banditi dai due enti locali della provincia di Pescara, in seguito al sisma dell'agosto del 2016 al maltempo del gennaio del 2017. Nel mirino i lavori di messa in sicurezza di edifici storici, centri abitati, strade, scuole e santuari per i quali erano stati messi a disposizione finanziamenti pari a 56 mila euro da ripartire, sulla base di un regolamento adottato dai comuni secondo i rispettivi ordinamenti tra i responsabili delle funzioni tecniche e finanziarie e i loro collaboratori. Secondo le indagini della Guardia di Finanza, metà della somma pari a 28 mila euro di incentivi sarebbe stata indebitamente liquidata per i motivi più disparati, tra i quali affidamenti diretti senza procedure comparative, assenza di copertura finanziaria, generici studi di fattibilità, sviamento del 20% delle somme destinate all'innovazione tecnologica, mancato pagamento delle quote previste per l'IRAP, la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali e l'Inail. Nel team dei tecnici ci sarebbe anche chi, in assenza di autorizzazione, si sarebbe autoliquidati gli incentivi.